musica 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 strano oh ma c'è giazzo ma c'è di code contro musica 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 la mia ultitiva è sparita ragazzi in quel momento si è volatilizzata a culo ho premuto perchè sono rispondente l'avete visto tutti c'è lo streaming pure musica musica oh l'hai visto? si è mosso un vaso da solo cino stavo camminando si è spostato i dettagli tipo certe cose cioè li vedi solo su e io li vedo diversi ma ah fuori boh li devo andare a mettere la torretta nel mio postaccio sai dove gliela metto la torretta? qua ragazzi non non no no non ta ragazzi giovane No dog, zainer HAHA 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 Spam, 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 you can grab them, you can grab them I have no shield, that machine has rust ok, while the brino is away, don't pick them, don't pick them You have to steal the turret It is broken? No, no, machine, let me go down ok, non abbiamo soldi push 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 thank you posso avere un leader qui? thank you man possiamo push them shit is broken go 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 back non ho shit ok, I'm ready tippa lo scudo my shit is broken Reynard has ultimate, ok? let me get here dimmi se c'è lo scudo, frate oh, I'm in danger thank you, thank you metto la torretta in posizione difensiva? eh, no ma quella mia torretta è alzio che volessi fa? he's the Reynard behind him Reynard behind him aspetta aspetta che volessi fa? aspetta aspetta asimetrati build o shield? shield, shield, shield ok, I'm coming guys now you need to play a bit safe d-dini, d-dini che gli metto armor on the check, guys, ok? no, no, no volevi dire qua? si armor on the check with greenie that is to the healers first yeah, go for the rudog oh, gli hanno fatto un help ho tolto verdagina oh, gli ho fatto nessacchino aiutati, ho atto metà vida oh, gli ho fatto nessacchino iuteri aiutati, iuteri gan Pepper ma c'è, il giro è stato buono allora, l'ho fatto nessacchino ha fatto nessacchino ho fatto nessacchino hai fatto nel suddue no iuteri lo vado a uccidere lo vado a uccidere faccio io ha usato l'ulti per farmi a me pensa quanto devi stare male coprimi con lo scudo coprimi con lo scudo sto buildando la torretta fammela buildare fatta io dov'è? lo faccio io vabbè scusami se con Torbjorn non sono main si lo so sulle scale a destra però non volevo rischiare lo so ho capito come dicevi però preferivo giocarla un po' più aggressiva bello andrea ops sbagliato cioè raga con Torbjorn ho il 90% di vittorie ah però qua c'ho vinto solo 3 game ah ho vinto ma se metto un McCree e spammo o prendo lo Dugone io aspetta cosa vuole fare questo? non ho capito io non li sento parlare così nessuno sta dicendo niente così vorrei piccare Wido no allora in team con me o ti chiamo in Cranky Fox o giochiamo in? eh? guarda che non è che devo giocare per fare il figo con lo stream è perché me la sento allora o ti chiamo in Cranky Fox guarda che non toghi la guida ora me la sento eh vai ti avvertà ancora non ti piace non lo so no Tox a fine anno sarò a fare a festeggiare ne hanno anche da plondo spero che vi sia piaciuto il buon Torbjorn let's go boys c'è un bel team cancer sto parando tutto gli vado a bitare il wall no non ci lasca mi hanno fatto droppare il mech mi hanno fatto droppare il mech c'hanno pure oh cosa ho fatto oh no mi sa un teleport va bene dai c'è un teleporter a destra sopra a destra top right top right se vuoi posso provare a volarci dovresti poter volare ci provo ci provo ci provo yeah stop right qui vai bello bravo ma l'ho trovato il portale merda l'ho fatto droppare il mech gli ha dato il boost al simmetra non ho capito se sta a sinistra o a destra cura il dp non c'ha l'armor c'hanno l'armor piccia l'armor non ho capito che è dietro farli droppo velu blocchi is leaping can we gather to do at 3 we rush ok let me see deal let me see deal in 3 we rush on the left ok time to raid my dpm he's at them ok everyone behind me everyone behind me now 3 2 1 come on 5 un 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 ho distrutto il portal eh arriva eh la strat comunque è di andare a sinistra è forte io sono entrato con la ulti le hanno suegliato tutti no più che altro dovevo svegliarmi prima fra i call di andare a sinistra veloci proprio le cose base questo è il mio smurf cave è il secondo profilo cosa hai detto Ciro? ha detto che dovevo sbrigarmi a dire di fare questo lo so io non riesco a comunicare con loro dai indovina chi deve farlo lo so rip per te